Ciao a tutti, questo video per parlare di coronavirus. Un po' tutti nel web hanno detto la propria, anche io vorrei dire la mia. Ma la mia riguarda più che altro il bollettino dei morti, non di guerra ma dei morti. Ogni giorno ci vengono dati i nuovi aggiornamenti sui nuovi contagi, sui deceduti e sulle persone guarite. Ovviamente, e non solo a me ma penso a tutti, salti all'occhio i nuovi contagi e soprattutto i deceduti e quindi i decessi. Ma perché? Perché sono alti, sono numeri alti e comunque non danno una spiegazione agli italiani. Perché cosa fanno? Dicono sono morte 130 persone e però queste 130 persone avevano delle malattie pregresse ed erano tutte persone che superavano i 70 anni di età, quindi 70, 75, 79, 80, 90. Però poi ti dicono anche, i nuovi contagiati comunque comprendono anche una buona percentuale di persone che vanno dai 50 ai 60 anni. Ma non escludiamo neanche i giovani, perché c'è anche una percentuale di giovani che sono stati appunto contagiati. Gli ospedali sono pieni, perché a sentire parlare loro gli ospedali sono pieni, quindi pieni di ricoverati. Quindi da una parte ti presentano questo bollettino terribile perché è angosciante, tutti noi ascoltiamo questo bollettino e ci viene l'angoscia e dall'altra cercano in qualche modo di rassicurare ma non è che facciano poi molto per rassicurarci e ogni giorno è sempre peggio. Ora io mi chiedo, ma questi malati alla fine si sono ammalati di coronavirus prima, dopo la malattia pregressa, mentre erano già in ospedale o sono andati in ospedale a causa del coronavirus? Tutti questi ricoveri negli ospedali vuol dire che siamo quasi off limit, perché ogni giorno ci sono nuovi ricoveri, ci sono nuove persone che sono ricoverate a casa, ai domiciliari. E quindi, non lo so, a me di tutta questa storia ciò che fa più paura è il bollettino. Il bollettino che comunque continua a non essere chiaro. Cioè, per quanto lo facciano credere chiaro, con dati precisi alla mano, penso che tutti ci siamo fatti un po' le stesse domande. perché così tanti contagi, gli ospedali allora sono davvero intasati, continuano a morire così tante persone e sì, ne guariscono anche, però se guardiamo bene ci sono più contagi e anche molti decessi. Ecco, questa informazione che viene passata quotidianamente come resoconto della giornata, per quanto riguarda appunto il coronavirus, lo trovo agghiacciante. Agghiacciante e poco chiaro, pochissimo chiaro. E questo bollettino, a mio avviso, crea il panico. Non sono sicura se, invece di rassicurare, di informare gli italiani, e non faccia altro che fomentare panico e aumentare la confusione di tutti noi. Se avete una risposta, se volete anche voi dire la vostra o esprimere il proprio pensiero, se condividete quello che vi ho detto, potete scriverlo nei commenti, così da parlarne insieme. E con questo video è tutto. Un bacio dalla Pinky, iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto. A presto dalla Pinky. Ciao ciao.